Bella raga, questo è un video diverso dagli altri quindi non necessiterà di una intro per sapere solamente che non mi piace se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi Quindi controlli disattivati, ah i guantini, siamo qua su questo passo e non è in Italia Eh non ho mai fatto sta strada Come vedete è veramente vicido Però è veramente bello l'asfalto eh, guardiamo se adesso arriva qualcuno Mettiamo un po' il passo L'asfalto mi sta venendo da vomitare, no? Non è vero? Naturalmente ho bisogno del navigatore per capire anche dove sto andando Il motivo è semplicemente il fatto di evitare questo In questo momento non l'ha fatta fortunatamente Adesso arriviamo staccata abbastanza violenta Ci allarghiamo, chiudiamo la nostra linea Usciamo abbastanza cattivi In questo momento la macchina sta soffrendo di quello che è in grado di soffrire Ovvero il sovrasterzo Però naturalmente siamo in DSC off ragazzi La macchina ha tutti i controlli completamente disattivati Come si comporta, naturalmente c'è un navigatore perché non conosco il passo L'avrò ripetuto all'infinito Infatti qua tendo a tenere le marce alte per non farla scappare via Non so neanche come sto facendo a parlare mentre guido Perché è assolutamente una roba che non riesco assolutamente a fare Infatti dovresti parlare un po' te e le tue impressioni di guida Non parlo, mi sto cagando Adosso Sasso Molto grosso Se lo prendevo sfondavo qualcosa Naturalmente è un passo abbastanza di sicurezza che non puoi raggiungere velocità veramente elevate Quindi ci si diverte Qua c'è un lungo rettilineo Qua si va veramente veloci Guardate chi Mamma mia, avevo paura di toccare sotto ragazzi Se toccavo sotto con quel sasso veramente facevo un danno epocale Comunque raga, per essere i DSC off c'è una trazione imbarazzante Davvero imbarazzante Va bene, ciò sono gommato anche da neve Quindi anche per altri motivi la macchina dovrebbe tendenzialmente andare dritta Invece si sta comportando veramente bene Qua non so com'è la curva I freni cominciano a fischiare Farò una fatica della madonna Questo è un tornate Uscita di traverso Se non neanche entravamo Come direbbe qualcuno Che era andato giù al posto che sa Sta godendo il panorama Eh cazzo suoi Che io sto godendo il panorama Qua c'è da rallentare Perché si sta formando delle bocca Da quanto vedo il navigatore Vorrei evitare di sfondare la macchina Teniamo la quarta che è bella alta Vedete come viaggia Mettiamo la terza Tornantino Si stringe seconda Si esce di traverso Comunque raga Macchina veramente della madonna Questo è stato un traverso veramente epocale Ragazzi Siamo usciti letteralmente di traverso Adesso troveremo qualche spot Da fermarci a fare solamente qualche video di fuori Alla Sachefen Adesso ragazzi Facciamo respirare la macchina Veramente Grazie a tutti Grazie a tutti